Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale, vi parlo della mia ultima lettura. Perdere è una questione di metodo, di Santiago Gamboa, pubblicato Guanda. L'ho trovato a un mercatino dell'usato, la collana della frontiera scomparsa, diretta da Luis Sepulveda, che è anche colui quale ha scritto la prefazione dell'edizione che ho io, tradotto da Pino Cacucci. Il nostro giornalista Silampa a Bogotà è un giornalista che arrotonda il suo salario scovando e ricattando alcune volte dei fedigrafi e degli adulteri, ma più che altro viene assoldato da mariti o mogli che vengono tradite per scattare delle foto, così poi da vantaggiarne la riuscita dei divorzi. Silampa però è un giornalista di cronaca nera e si trova a indagare su un terribile omicidio. Un uomo viene trovato in palato e questa storia mette in crisi anche la sua vocazione come giornalista e in una Bogotà contemporanea, che non viene descritta solo come terra di cocaina o prostituzione, emerge anche gli affari di una certa middle class che per arrivare ai propri scopi non ha alcuno scrupolo. Aiutato da Estupignan, un uomo che conosce durante un suo essere presente agli interrogatori per capire l'identità dell'uomo in palato, questo Estupignan ha un fratello tassista che non riesce per trovare e insieme con Silampa si getterà alla ricerca sia del fratello sia di capire chi è la persona morta in palata e che cosa c'è dietro. C'è dietro una speculazione, ci sono dietro un consigliere corrotto, un costruttore, un mafioso del luogo Tiflis e anche una comunità di naturisti, persone che in una riserva girano nudi e hanno un modo di vivere particolare. Ci saranno molti delitti e questo si intersegherà anche con la vita sentimentale di Silampa, forte bevitore che ha una fidanzata Monica che però non ha un rapporto particolare, l'ha da per scontate e quindi cosa succederà. In tutto questo c'è il nostro capitano Moia con cui Silampa collabora che intervallerà la descrizione delle avventure di Silampa con un suo discorso che dovrà tenere a una comunità perché come se fossero gli alcolisti anonimi del cibo, lui parlerà e racconterà la sua vita con anche un risvolto alla fine che farà capire che forse non tutte le storie finiscono come dovrebbero finire in un libro, racconta la sua esperienza di vita e anche del suo essere una persona dipendente dal cibo e da come in realtà non riuscirà a disintossicarsene. Questo è un libro molto carino che non ha chissà quali vertici di intrigo come Thriller o Giallo ma comunque ci permette di avere un quadro complessivo sulla società, quella colombiana, descritta sempre forse ancorandola agli stereotipi sia folcoloristici che magari parte giustificati da una politica e da un ambiente tale per cui ci fanno dire una terra davvero difficile. Quindi questo è una delle situazioni in cui la letteratura riesce a dare un servizio diverso e a descrivere la realtà in modo differente. È bello sempre leggere letteratura sudamericana perché mi permette sempre di andare a interfacciarmi con la tipologia di cultura a me forse più vicina e consola. Non è un Gabriel Garcia Marquez, non è un Sepulveda ma Santiago Gamboa con Perdere è una questione di metodo che tra l'altro credo sia una citazione proprio di Sepulveda ci permette di addentrarci in una storia in cui c'è un mafioso, una donna fan fatal, la sua fidanzata Monica indecisa, il suo avere come amico una persona semplice ma che si ritrova ad essere un vero amico come Stupignan e c'è anche un percorso di vita di questo investigatore che attraversa una sua evoluzione questo personaggio. Ciò ci permette quindi di avere 282 pagine in questa edizione che si leggono in modo scorrevole con dei brevi capitoli intervallati dal racconto del Capitano Moya che come un alcolista anonimo racconta della sua vita forse anche incensandola e tutto questo è un approccio diverso, è anche una sfortunatura diverso del giallo che ci regala Santiago Gamboa e quindi Perdere la questione di metodo è un buon libro che può diciamo essere una lettura per qualcuno che vuole conoscere un po' di più della Colombia e anche per immergersi in una realtà diversa. A tutti quanti voi un saluto, vi aspetto al prossimo video e buone letture, condividete il video, iscrivetevi al canale o mettete un like, commentate se volete ovviamente e avete letto questo libro o avete altri video a consigliarmi di questa collana. A tutti un saluto, ciao!